Allora, innanzitutto sono felice di rappresentare l'Italia e mi sto preparando molto bene perché per arrivare al GESC ho preparato. Allora, il messaggio è quello di fare, di trasmettere gioia, felicità e amore e che l'unica guerra è fatta con Cuscini. Sono Marco Vingoni ed Ultimo. Allora, di Marco Vingoni mi piace l'essenziale, invece di Ultimo ti rendi che il silenzio. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi... Mi sento molto fortunato anche perché lui è molto simpatico, è proprio molto bravo e sono felice di essere andato in squadra con lui a The Voice perché è proprio una persona molto brava. E sono molto contenti anche loro perché alla fine dopo The Voice è un grande passo andare all'Eurovision. Sono, diciamo, tutti contenti del percorso che sto facendo. Allora, è un po' difficile gestire scuola e canto, però ce la sto mettendo tutta, diciamo, anche per andare bene a scuola. Mi piace cucinare, giocare a calcio e mi piacciono molto gli animali, soprattutto i cani. Ho due chihuahua. Grazie.